Fate un passo indietro e tornate a dieci anni fa. Pensate a qual era la vostra situazione economica nel 1999 e rapportatela ad oggi. La crisi economica non aveva iniziato a far danni e le marche sperimentavano al meglio i vantaggi del proprio settore industriale. Non deve stupire allora il dato diffuso oggi sul Sole 24 Ore, secondo cui in dieci anni, dal 1998 al 2008, il prodotto interno lordo di tutta la regione sarebbe cresciuto del 18,2%, rispetto a una media nazionale del 12,8%. Sempre dai dati emerge che le regioni del centro Italia sono tutte sopra la media nazionale, a conferma dell'importanza crescente di quest'area del paese. La classifica, stilata dal quotidiano diretto da Gianni Riotta, segnala inoltre le marche, assieme a Lazio ed Emilia Romagna, nel gruppo di testa delle regioni che hanno meglio reagito alla crisi del modello fordista di industrializzazione, sfruttando bene i processi di apertura internazionale e terziarizzazione dell'economia. Insomma, negli ultimi anni la regione si sarebbe comportata in modo virtuoso e tradotto in parole povere, quasi tutti ci saremmo arricchiti. Secondo il governatore Gian Mario Spacca, questo è un primato che consolida la fiducia della nostra comunità e nella propria capacità di crescita, nella prospettiva dell'innovazione e della qualità. Dai dati emergerebbe un sistema marche molto solido, capace di sapersi adattare con grande intelligenza ai cambiamenti strutturali dell'economia, grazie alla flessibilità delle piccole imprese e alla creatività dei settori produttivi. Per ora, insomma, siamo tutti pronti a festeggiare questi dati. Certo è che fra dieci anni assisteremo a performance diverse, dovendo purtroppo registrare i gravi danni economici della crisi globale, una crisi che ha messo in ginocchio tutto il sud delle Marche e in particolare il territorio piceno.